Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale e su The Legend of Zelda A Link to the Past Oggi cerchiamo di sbrigarci con una certa facilità, più che posso appunto, il dungeon numero 6 Ragazzi, dungeon numero 6 e appunto iniziamo teletrasportandoci e subito troviamo un fantastico teletrasporto Ok, non me l'aspettavo ragazzi, mi aspettavo che avrei cercato la strada per un bel po' E ragazzi, ma qua siamo letteralmente in una palude Ora, non vorrei offendere nessuno Ok, diciamo questo, diciamo questo Che siamo venuti a trovare Shrek Per non essere offensivo nei confronti nemmeno dei mostri Ehi, con sole 20 rupie ti narrerò una storia assai utile, che ne dici? Ok Eh, grazie, non c'è dubbio, è un'abominevole magia alla causa dell'incessante pioggia nella palude Forse una scossa che faccia tremare l'aria potrà fermare il diluvio Ok Interessante, c'è anche curato Certo, non è che ci mancasse molta vita Però appunto non fa mai male una bella curetta E vorrei capire un attimo il motivo per il quale Eh, infatti è tutto chiuso Per il quale quest'area non è accessibile, ma Abbastanza straightforward come cosa Ma crepa Guardalo, guardalo Eh, lo sapevo Però lo scudo ce l'abbiamo potenziato, quindi ci para I proiettili Non ci ho fatto caso, ragazzi Ero troppo abituato a giocare Senza scudo Ok Vediamo che c'è qua No, non funziona così, ovviamente Oh, ragazzi Cosa ho appena trovato? Guardate qua No, tu Cosa abbiamo trovato? Ok Forse questo è quello di cui parlava E noi abbiamo l'etere Quindi Ok Vedete ragazzi, c'è Io ora non vorrei dire nulla, eh Però se solo il tuo gioco fosse così Che fai un giro dell'aria Fai il perimetro Mala palude Ok Fai il perimetro dell'aria Trovi un NPC che ti racconta una storia E ti dice Oh, guarda che se usi etere In un posto specifico Sblocchi il dungeon Non sarebbe tutto molto meglio? No Ci dobbiamo impazzire ogni volta Perché altrimenti Ok, allora qui Ovviamente non Non funziona questo Quindi Qual è l'idea brillante? Ah, certo Possiamo usare l'arpione Ovviamente Mi dimentico sempre Ragazzi Di affrellar pione Però non importa Dall'un momento Oddio, ma che è? Il mago nero di Final Fantasy Ragazzi Vivi Cosa ci fa Vivi Su Link to the Past? Che poi Già esisteva il mago nero Su Cioè Quando questo gioco è stato pubblicato Perché Final Fantasy Mi sembra che fosse Il 3 Il primo che presentasse Il mago nero Non lo so ragazzi Sto tirando a indovinare Letteralmente Oh, liscio Che vi ho detto ragazzi Che ci sarebbe stata utile Questa armatura Vabbè Soprassediamo E dicevo che appunto La prima apparizione del mago nero Credo che preceda Non di tantissimo Ma Preceda comunque L'uscita di A Link to the Past Ok No Oddio Un occhio che però ci toglie Un botto di vita Appena gli passiamo davanti Ok Ok Qui È una strada Senso unico Il che significa Forse ho capito Come si va avanti Qua ragazzi Per quanto stia già morendo E non ho neanche Fate Ne niente Ovviamente Ecco E questi ci tolgono Un cuore intero Maledetti Aha Eccolo Però non abbiamo la chiave Ovviamente Eh volevi eh Non abbiamo la chiave Non abbiamo neanche un modo Plausibile per Per andare avanti In questa direzione Quindi proveremo Da un'altra parte Ancora chiusa? Ah Certo Anche quelli congelati Contano ovviamente Proviamo a scendere qua Ragazzi Che vi dico Andiamo alla ricerca Di qualche bottone Di qualche tipo O qualcosa di simile Stando sempre però Attenti Perché qua Ci mettiamo un secondo A essere Sciottati da Da questi ostacoli Ok Abbiamo trovato una porta Dove possiamo andare Effettivamente Quindi Io non mancherei Quest'opportunità E qui dietro Ci sono questi maledetti Ma lo sapevo Ok Proviamo a proseguire In questo senso E siamo ancora Senza mappa Ma Per fortuna Questo labirinto Sembra avere Pochi piani Quindi È una cosa che un po' Mi conforta Intanto troviamo Una chiave Proviamo ad andare Verso di qua Troviamo Questi nemici Molto particolari Che lasciano Bombe per terra Ma che è Bomberman Siamo matti Oh So che la stanza Non è chiusa Ragazzi Lo so Perfettamente Solo che voglio Provare ad ammazzarli Per vedere se Appunto Lasciano qualcosa Ok Come non detto Ecco Qui non possiamo Proseguire Perché dobbiamo Triggerare Un orb Colorato E di qua Che problema c'è Siamo nella stanza Direttamente A sinistra Proviamo con un bel sisma Oh Non l'avevo mai provato Ma veramente Ok In compenso Maledetti tutti Maledetti tutti Proprio In compenso Dicevo Abbiamo trovato Una chiave Per sbloccare La fantastica Porta Stiamo attenti Ragazzi Che qui Ci mettiamo Un secondo A crepare Aha C'è un bottone La sopra Ma come facciamo Non credo Che ci sia Un modo Di Attivarlo Almeno Non per il momento Aha Ok È tutto chiuso Oh no Non è vero Qui Potremmo Certo Certo Sempre Camminando Sulle spine Cosa che Eh Infatti Però appunto Sacrificando Lo so che non è il modo Ortodosso questo Ovviamente ragazzi Però appunto Sacrificando un po' Di vita Potremmo Arrivare alla soluzione In questa maniera Diciamo Alternativa Ma andando Per esempio Di qua Cosa si ottiene Se tiene Intanto Un passaggio No No Infatti No Però qua sopra Appunto Ci possiamo andare Tranquillamente E però Questa strada È sempre quella Bloccata Dal Fantastico Orb Che dobbiamo Fargli cambiare colore Ma qui Nella strada Quella Libera Ancora non ci sono entrato Sono entrato prima In quella bloccata Però Attenzione Attenzione Eccolo Abbiamo trovato Chi è un colpo Abbiamo trovato L'orbo Dicevo Qui Oh Qua abbiamo fatto Cambiare colore No Ma come Sono morto Ma dai Ok Questa è la strada Che non richiedeva L'uso Della chiave Ok Finalmente Però qua Ci sono Due bei Spot Per le bombe Che però Non Non sembrano Voler funzionare Quindi Boh Forse ci servono Effettivamente Quelle bombe Più potenti Di cui parlavano Potrebbe essere Oh Abbiamo trovato La porta del boss Maledetto Vivi Ok No Qui non Sembra esserci Nulla di Rilevante E dobbiamo Trovare un modo Per passare Oltre queste spine Perché Non lo sopporto Proprio Di non poterci andare Di non poter Sbloccare un sacco Di cose Ok Quanto le odio Ste torrette Ragazzi Voi non c'avete idea Voi non c'avete Proprio idea Di quanto io le disprezzi Con tutto me stesso Maledette Ok Scendiamo E qui probabilmente Infatti Niente Ce la fanno vedere Solo per Per farci rosicare Basta Però ci fanno capire Che appunto Andando da questo lato Che abbiamo sbloccato Adesso per sbaglio Della Della mappa Troveremo cose Interessanti Per esempio Qui No O no Se abbiamo Abbastanza mana Per finire Eh infatti No Mica le para Con lo scudo Sto maledetto Ok Attenzione ragazzi Perché abbiamo Un cuore in mezzo Qui probabilmente Il pavimento Si distrugge pure Oh no Ok crepo Aha Queste si spostano Ok fermi tutti No Non ci pensare neanche Proprio Ma 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 io Riconsidererei Cioè Il mago nero È uno dei miei personaggi Preferiti Proprio Delle Delle icone Videoludiche Ma In questo caso È un grande no Per me Per quanto Mi riguarda Oddio Ok L'abbiamo accesa E quindi Qui ovviamente Non si resetta Come faccio A resettarle Secondo voi Andando di sotto E ritornando Proviamo Aha Avete visto L'abbiamo spostata Insieme al blocco Ok Ma incendiati Ok Adesso abbiamo capito Come farlo Quindi È tutto più semplice Ok E vai Esatto Ma che è Questo Questo sisma La terra Che trema Così tanto Che succede Non ho capito Probabilmente Se avessi la mappa Potrei consultare I cambiamenti Avvenuti Ma Non avendola Oh Link Sono io Sasra L'anziano Se vuoi proseguire Devi accendere Quattro braceri Fatto Fatto Non mi serve Il suggerimento Probabilmente È cambiato qualcosa Di cui non mi rendo Neanche conto Perché non siamo Andati più di tanto Avanti Intanto troviamo Dicevo Intanto troviamo La grande chiave E un bel teletrasporto Davanti proprio Alla porta Del boss Molto utile Però non abbiamo Trovato La fantastica mappa Per niente Va bene E siamo anche Tra l'altro In fin di vita Ma Ok No Stiamo attenti ragazzi Perché questi Il rimbalzo Di sti cosi È una cosa Veramente infame Allora Siamo al piano Sempre Sotterraneo 1 Ma quindi Il sotterraneo 2 Ha uno scopo Oppure no Sì Lo scopo Di trasformarci In conigli Comunque Qui non c'eravamo stati E c'è infatti Una bella porta chiusa Dove forse Potremmo Esatto Accedere anche prima Però non c'era Questo tipo di shortcut Però qua sopra Non ci siamo andati Per niente Per esempio Vero Immagino perché Eh infatti Vedete Siamo stati sotto A quel ponte là Quello di destra Ma non qua Qua per niente Ma basta Un sto rumore Dai Piripiri Piripiri Ok Qui c'è un altro switch E un'altra chiave Cosa molto importante Ok Forte del fatto Che abbiamo switchato Oddio aiuto Che abbiamo switchato Adesso Possiamo Andare qua sotto Aia Ecco Andiamocene ragazzi Andiamocene perché Qui Veramente E qui era Credo Credo Esatto Dove ho provato a dar più un'area Ma senza successo Però qual è il significato Che adesso Sto qua Non ci posso far nulla Scusate Perché esiste Questa Quest'area Non lo so ragazzi Questo dungeon Mi lascia un sacco Di interrogativi Tu un tanto crepa E noi Ci dirigiamo Verso nord Ok Non è che ci servisse Però Oh E qui finalmente Abbiamo accesso Anche all'altro ponte Che ci porta Al piano di sotto Cosa Veramente incredibile Dal momento che mi chiedevo Proprio adesso Come ci saremmo arrivati Ma Ok Aiuto Niente Oh Niente Ah Ci devi spostare qualcosa sopra Ma siamo ai matti Che ci sposti sopra È uno di questi Non ci può mettere niente sopra Fatto sta che lì c'è una porta bloccata ragazzi Quindi attenzione Dobbiamo ancora trovare un'altra chiave Da metterci dentro Ah Lo sapevo che dovevamo tornare a sbloccarla Il bastone di Somaria Usato nel mondo opportuno Si rivelerà prezioso Nel mondo opportuno Che significa Boh Ragazzi onestamente Boh Oddio Ma Come fa a spararci oltre La diavolo di Ok Non lo so Ok Credo che questo non fosse per niente il modo giusto di farlo Ma in ogni caso ci siamo arrivati Quindi Non importa Adesso dobbiamo solo ricordarci dov'era l'orbo Per cambiare colore Dopodiché possiamo tranquillamente tornare A fare i comodacci nostri E sbloccare anche l'altra cassa Che probabilmente a sto punto contiene anch'essa Un O no Un Oddio Ok Una fantastica chiave Dicevo Ma quindi andando qua sopra andiamo dove Ah Ok Beh diciamo che Potremmo Si sbloccare La porta lì sotto ma Credo ci siano altre cose di cui Curarci al momento però Credo che potremmo provare a sbloccarla Dal momento che non ho altre opzioni Ok Andiamo a vedere Oh Ok Un po' di soldi E Niente più Solo questo Solo un po' di soldi Abbastanza deludente come cosa Ah Tra l'altro qui ragazzi non abbiamo acceso nulla Quindi fermi un attimo Ok Fatto con lo scettro perché così Vediamo di prendere I danni E qui Ok Si apre di nuovo Quindi Però dobbiamo attivare l'orb Spero che duri la mia vita e la lanterna Dai Ok E la bussola La bussola ragazzi Effettivamente Ok stiamo andando nella direzione giusta Sembra E adesso che abbiamo usato L'orb Per sbloccare l'altra Ok Questo Oddio Dicevo per mettere sti Sti cosi rossi In questi paletti Possiamo provare A tornare di là E vedere Se ci è cambiato qualcosa Oh Ecco qua Un'altra bella chiave E questa la possiamo usare Non so di preciso per cosa Ma sicuramente per qualcosa Esatto Per questa porta Usiamo la chiave Attenzione E la mappa Ragazzi siamo troppo forti Ok Con un cuore di vita Abbiamo sbaragliato ogni cosa possibile Allora Per salire al boss Dobbiamo semplicemente niente Proseguire nel sotterraneo Quindi Tutto sta adesso ad arrivare Nel sotterraneo nuovamente E per farlo dobbiamo arrivare tutto Dall'altra parte del dungeon Quindi Non è uno scherzo Tra l'altro ragazzi Che fa sto bastone Ma seriamente Pazzesco Quindi possiamo usarlo sul bottone di sotto Ok Fermi tutti Ok Temo fosse rimasto Per un attimo Eccolo qua Allora Fermi tutti Fermi tutti Fermi 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 Lo schiaccia? No Sembra di no Sembra di no E qui intanto ci stiamo a crepandoi Eh però Oh è qui Ed esplode Dai però Cristo Ok Perfetto E ci siamo Nuova stanza Nuovi enigmi Tutto nuovo Ok proseguiamo di qua Perché già sappiamo dalla mappa Che in quella stanza appunto non c'è nulla Se non casse Però non nuovi ingressi Ad altre stanze Ok E qui niente Però Qua appunto niente Eh È cambiato molto Oddio Ok Una bomba E qui in teoria ci sarebbe un passaggio Da aprire con la bomba Adesso tutto sta a vedere se effettivamente si apre Eh infatti Cosa Ci sono crollato addosso delle cose Ma che Quindi le esplosioni anche in questo gioco sono vere Non solo su Resident Evil 4 Oddio Ok E finalmente Di nuovo luce perché Oddio Mi stavo un attimo No Stufando Dicevo Dell'oscurità Oddio E dai Ragazzi I dungeon di questo gioco sono di una difficoltà Inenarrabile Ok E lì dobbiamo di nuovo Triggerare il L'orbo colorato Eh però un'altra volta lo triggeriamo Lo triggeriamo un'altra volta perché stavolta Siamo crepati No No Cioè proprio ci insegue Ci insegue Nulla eh Oh Oddio un bel cuore Meno male Un altro Meno male E questi Oddio Dicevo le continuo Ad ammazzare Si droppano cuori così tanto Possiamo anche abusarne volendo No Mattevian colpo Ok basta Saliamo e stop E proviamo a sto punto E lo sapevo Ad andare di qua Ok Ok Stanza il boss Il problema adesso È che siamo in fin di vita Quindi il boss è Eccolo ma Ed è Una gelatina Che rilascia occhi appunto Tra l'altro che culo Che non ci ha colpito Forse Appunto l'ethere È efficace Dal momento che No Infatti no Non lo è ragazzi Tranquilli Tranquilli non lo è Non lo è ragazzi Oh ok Tirandogli una bomba là Aia Possiamo effettivamente Colpire Più di questi occhi Maledetti insieme No Ragazzi Sti cosi sono durissimi Io proverai con le frecce Adesso Ok Con tre frecce Sullo stesso Oddio Con tre frecce Con tre frecce Addosso allo stesso Riusciamo A farli fuori Ok Anche tu Farei la loro stessa fine Però mi dispiace Sempre che non tiri fuori Assi nella manica Strani Ok Oddio Ragazzi Cioè ogni volta È sempre più difficile È pazzesca sta cosa Link Mi è liberata Dalle grinfie Dei mostri malvagi Grazie Ganon ci ha rapite Perché tutto il suo potere Non bastava A spezzare il sigillo Il suo lachè Il mago Aganim Ci ha tratte Nel mondo delle tenebre Dopo aver usato La nostra aura Per intaccare il sigillo Ci ha rinchiuso In questi cristalli Poi ci ha lasciate Nelle mani Dei suoi mostri Ganon non credeva Che tu potessi liberarci Ora la principessa Zelda Ti aspetta nella rocca tartaruga Fa presto Hai compreso? Sì Che la via dell'eroe Conduca la triforza Abbiamo un botto di cuori Se vedete Ok ragazzi Detto questo Ho ancora Una commissione Che voglio sbrigare Mi si sono anche spente le cuffie Quindi sarete anche probabilmente Senza audio ragazzi Però Voglio andare a controllare Nella famosa bottega delle bombe Se ci sono delle novità Perché mi è venuta in mente Questa cosa Dal momento che Abbiamo avuto l'input Di usare Le bombe potenziate Quindi volevo un attimo Ricordarmi dove fosse Per cercare di capire Se potessimo sfruttarlo In qualche modo 100 rupie per 30 bombe No Sembra di no Oh beh Mi dispiace allora Beh ragazzi Detto questo Il prossimo episodio ci aspetta La fantastica rocca tartaruga E sarà divertente Cercare di capire come arrivarci Ragazzi Dai Dai che è tutto E Alla prossima Con il penultimo Episodio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi